Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Valga presso di Te, o Signore. Per noi l'intercessione del Tuo Beato Abate Gerardo. Affinché è quel che non possiamo per i meriti nostri. Lo tendiamo per mezzo del Lui patrocinio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.